Buonasera Beppe, buonasera, ti vedo attento, vuoi leggere bene questo cartello, oggetto caro amico mio di una interrogazione nell'ultimo consiglio comunale del consigliere Bardelli, Roberto Bardelli che salutiamo, che ha sottoposto come questo cantiere edile, qui siamo al villaggio Gattolino, quindi nel cuore popolare di Saione, questo cantiere è fermo, i lavori dovrebbero finire, voi vedete però ha scritto qui, qui non c'è scritto quando finiscono, comunque, 26 gennaio 2015 inizio i lavori, lui dice fine aprile 2018, però da tempo pare che questo cantiere sia qui lasciato così immobile, Aprile 2018 è ancora tempo allora Quindi era previsto che stesse immobile così Eh vuol dire che erano in avanti quei lavori e non ha fermato Comunque dice che qui è avvolto nel degrado la situazione Che è avvolto nel degrado, è il cantiere, tutto è chiuso Non ho capito dov'è il problema, il problema è davanti Ora andiamo a vedere perché dovrebbe finire nel 2018 e quindi siamo nel 2017 Ma dai, con tutti i problemi che c'è nella città si va a fossilizzare su questo problema Però dice giorni 710 naturali e continuativi Va bene Non mi pare che sia continuativo Vuol dire che ha avuto dei problemi e non so spesso il cantiere Comune di Arezzo, vedi, è comune di Arezzo, Arezzo Cazzo Il 13 aprile, il 13 aprile 2018 Il secondo te il 13 aprile 2018 è tutto a posto Che ne so io, io vengo il 13 aprile 2018, verrò qui il 14 aprile e dirò cosa succede Questo ci verrà un centro di aggregazione No, non è possibile Spazi da destinare ad attività sociali, centro di aggregazione Ed edilizia, residenza pubblica E spazi, quindi a piano terra ci verrà anche un centro, qua infatti più alto, la zona finale ci verrà Di aggregazione sopra le case popolari, edilizia pubblica Comune di Arezzo e Arezzo Cazzo Esatto Siamo qui sempre a ridosso del viaggio cattolino e tu dici? Albereta, che venga dalla parte di qua E vede effettivamente, questa è area comunale Siamo ridosso di quel cantiere, dalla parte opposta Che cerchi di far sistemare questa qui, evitando sta bruttura Questo è il problema Non vado a cercare altre problematiche, alternatura politico-commerciale Commerciale? Politico-commerciale Ma perché nessuno è riuscito? Qual è la problematica di farci qualcosa? Primo che c'erano i soldi L'amministrazione dei soldi non c'erano Poi c'è il privato che ha presentato un progetto Che avrebbe risanato tutto Ma il progetto privato non è stato autorizzato E quindi di conseguenza è rimasto tutto così Questo va almeno messo in sicurezza Almeno messo in sicurezza Perché qui, visto che crolla Perché no, prima o poi crolla qualcosa addosso a qualcuno Quindi, metta in sicurezza questo E non faccia tanta democacia Non serve assolutamente niente Bandiere di chi erano Del tipe Ma faccia finita E pensa a problemi E pensa a problemi della città d'Arezzo Ma lui ci pensa E anche una persona intelligente E' uno di quelli che secondo me Ci ha sempre di più pensato Che ha sempre sollevato questioni Anzi C'è uno di quelli che ha sollevato anche questioni scomodi Lo so Allora, pensi ai problemi della cittadina Ma lascia perdere Non si metta anche lì a fare demagogia Faccia quello che sa fare Demagogia Un cantiere fermo E chiede perché Perché demagogia? Perché di Arezzo Casa Arezzo Casa non comanda centrodestra Comanda centrosinistra Ma lui sai che sia un po' distinto Dalla maggioranza di centrodestra Che è uscito dal gruppo di Forza Italia Ah, va bene Quindi, vedi Questo tuo teorema mi sa che ci cade con le carte Lascia aperto Lascia aperto Comunque Lascia aperto Sennò Dovremmo farla No, no, no Non la facciamo lunga Perché Abbiamo già fatta anche troppo Gattolino Qui c'è da mettere al sicuro Poi la settimana prossima Magari rendiamo del Vice sindaco A chi è? Ah, per metterlo al sicuro Questo e poi anche altre cose Che abbiamo fatto Ah, va bene Ciao Ciao